Festa allo zoo di Londra dove Melati, una tigre di Sumatra dei 5 anni, ha dato alla luce dopo una gravidanza di 106 giorni e tre cuccioli. Ancora sconosciuto il sesso dei piccoli, particolare che poco sembra importare alla mamma più preoccupata a coccolare i suoi piccoli. Mamma e cuccioli si trovano ora in un recinto speciale dello zoo e sono costantemente monitorati dalle telecamere. La tigre di Sumatra è una delle specie a rischio di estensione e la popolazione selvatica è stimata tra i 400 e i 500 animali.